Una bella gara quella che abbiamo assistito oggi a Ribera tra la squadra di casa e il Camarat. Un Camarat che nel primo tempo ha avuto una delle migliori occasioni per tutta la gara di passare in vantaggio con un calcio di rigore che avrebbe sicuramente cambiato la partita ma Totoshi Lufo ha tirato addosso a Ciccio Talluto. E poi nella ripresa un Ribera che si è catapultato nella metà campo dei bianco-azzurri rischiando, si fa per dire, di passare in vantaggio per diverse occasioni che per la bravura di Nicola Maggio e per la precipitazione forse dei suoi attaccanti non è riuscita. Alla fine un pareggio che premia la squadra cammaratese al di là magari di quello che ha fatto durante il secondo tempo e lascia la mare in bocca al Ribera ma un pareggio che serva a entrambe le squadre per cominciare bene nel migliore dei modi questo campionato. Con gli highlights le migliori occasioni della gara e alla fine le interviste ai protagonisti. Stadio Nino Novara di Ribera, prima giornata di campionato, stagione 2011-2012, campionato di eccellenza. Comincia la gara il Ribera sulla... vediamo un po', ecco Scillufo, il tiro di pugno! Talluto, già Scillufo in gioco, Scillufo, attenzione Scillufo, sposta Scillufo, Scillufo! Il tiro, sfiora il palo Scillufo, testa, attenzione il Ribera in avanti, ancora Erbini il tiro, grandissima parata. Icca, limite dell'aria, Icca si libera, entra in aria, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore per il Camarat. Rincorsa, fischia l'arbitro, Scillufo, tiro, parato! Parato da Talluto! Spreca, Totò Scillufo! Attenzione, c'è un malore, un malore in panchina, è Corsale che ha subito questo infortunio. Esce l'ambulanza, speriamo nulla di grave per Corsale. Ribera sulla sinistra, attenzione, entra in aria, Vella, Vella, il cross, colpo di testa, ancora Maggio, super Maggio! Sulla destra, ancora Calvaruso, si libera, mette in mezzo, attenzione al Ribera, il tiro! Maggio, libera, su Argento! Camarat, Camarat che non riesce adesso, attenzione Erbini, attenzione Erbini, da solo in aria, il tiro! Fuori di poco! L'altro lato, riesce ancora a mettere in mezzo, attenzione, Campanella, il tiro! Fuori! Destro di Ciancimino, parte Vella, il tiro, calcio d'angolo! Parte Tummiolo, il tiro, grandissimo miracolo ancora di Maggio, attenzione, non è finita il tiro, sulla linea, ha scrudato! Tummiolo in avanti, ancora ribattuto, Tummiolo dietro, attenzione, esce, attenzione, Ribera, il tiro! Clamoroso! Con il Ribera, ancora in avanti, Maggio però la fa sua! Un rigore sbagliato, un po' di sofferenza nel finale, ma alla fine un buon pareggio! Un buon pareggio, uno deve essere obiettivo, se segnavamo il rigore magari potevamo parlare di un'altra cosa, ma tutto sommato il secondo tempo il Ribera mi ha messo sotto, è una grossa squadra, hanno giocato bene, non ho niente a rimprovere i ragazzi, l'episodio del rigore ci può stare, però tutto sommato abbiamo meritato un punto in funzione che abbiamo sbagliato il rigore. Bene, il proseguo del Camarat in questo campionato, quali obiettivi? Obiettivi, parliamo obiettivi, intanto il primo obiettivo è di amalgamare la squadra, ci sono 18 giocatori nuovi e non è facile mettere su una squadra di sana pianta, stiamo lavorando alla grande, sia io che i ragazzi, il primo obiettivo è di amalgamare i ragazzi, poi piano piano penso che sicuramente faranno un discreto campionato. Da un possibile vantaggio del Camarat per il rigore sbagliato a un forcing finale che forse avrebbe meritato qualcosa in più il suo Ribera? Io non voglio recriminare per quanto concerne l'episodio del calcio di rigore, però penso che in quel momento l'abito è stato troppo fiscale a fischiare questo calcio di rigore che io lo considero già fuori dall'area del rigore. Comunque, tutto sommato, penso che Talluto è stato bravissimo a intercettare il tiro, poi per il resto, insomma, penso che il primo tempo il Camarat ha cercato in tutti i modi di poterci infilare, poi nel secondo tempo il Ribera è uscito fuori alla grande, lo va macinato, chilometri, però è chiaro che siamo stati troppo leziosi sotto porta e abbiamo sprecato tanto. Mister Maggio ha detto un buon punto portato a casa da Nicola Maggio. Ma è stata una partita sofferta, giustamente la partita che mi scelta 0-0, portieri, un motivo ci sarà. Ho fatto due parate, però a questo punto i miei compagni che hanno lottato palla per palla con grande determinazione, con grande voglia di fare il risultato a tutti i corsi. Un buon Ribera oggi che forse avrebbe meritato di più. Sì, avrebbe meritato di più perché la partita nel secondo tempo l'ho fatta in Ribera. Nel primo tempo bisogna il calcio di rigore, si andava in bordo e non c'era nulla da recriminare. Ma il secondo tempo avete visto tutti che la partita l'ha fatta in Ribera. Abbiamo avuto 3-4 palle con gol e non l'abbiamo sfruttato. Però va bene anche così, il pareggio può stare, ma se ci sta sta stretto a Ribera oggi.